All'uscita di Altedo, lungo l'autostrada Bologna-Padova, c'è il nuovo albergo al Melograno. Discreto, sobrio, elegante, economico. Ha il vantaggio, di essere 300 metri dall'uscita dell'autostrada. Ha il ristorante adiacente, ed un piazzale di 30.000 metri quadri. Le camere, sono sempre in ordine. I bagni, sono nuovi. L'albergo, è pulito quotidianamente, da un'impresa di pulizia specializzata. I prezzi sono accessibili. A partire, da 30 euro singola, per notte. 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 Grazie a tutti.